Ci spostiamo al padiglione 6 dove Arca presenta accanto ai semi integrali della serie Europa New Deal una nuova gamma di motorhome. Lo scorso anno avevamo iniziato con la parte profilata e basculante con l'introduzione dell'Europa New Deal e quest'anno abbiamo completato il rinnovamento della gamma Europa con l'introduzione del motorhome. Da sempre Arca è stata presente in questa fascia di mercato e anzi diciamo che è stata un po' un precursore della gamma motorhome quindi abbiamo introdotto un motorhome completamente rinnovato nella gamma H. Le piante sono i due tradizionali 745 con disposizione gemello e centrale a cui si affianca una grossa novità molto importante per il mercato italiano sempre più richiesto di un veicolo più compatto. È un veicolo di sotto 7 metri con disposizione gemello.